e salve a tutti amici del legionario e benvenuti alla centotresima puntata della nostra rubrica 10 minuti con il legionario torniamo in diretta dopo circa una settimana dall'ultima puntata della nostra rubrica allora purtroppo ho perso il conto dei giorni di quarantena calcio purtroppo ancora non ne abbiamo ne parleremo perché c'è la possibilità che sta prendendo piede che praticamente si possa riprendere la serie A possa riprendere addirittura a fine maggio ricordiamo che il decreto che era stato approvato nei giorni scorsi scaderà il 3 di maggio per cui le attività dei professionisti alcuni giocatori potrebbero riprendersi le squadre potrebbero riprendere gli allenamenti il 4 di maggio ovviamente servirebbero tre settimane per rifare la preparazione e per cui a fine maggio si potrebbe tornare in campo noi abbiamo sempre detto che la cosa più importante in questo momento è la salute e il calcio viene messo in secondo piano giustamente si dovrà riprendere soltanto nel momento in cui ci sarà la certezza matematica che non ci sarà alcun rischio per nessun giocatore perché ricordiamo che i giocatori sono umani non sono macchine hanno delle famiglie anche loro non è che sono immuni dal virus anzi abbiamo avuto alcuni casi in serie A per fortuna tutti quanti sono guariti con questa situazione non ci si scherza dobbiamo stare attenti per cui non bisogna prendere decisioni affrettate bisogna riprendere soltanto quando ci sarà appunto la certezza del che il contagio che non ci sia appunto nessun rischio di contagio per cui abbiamo detto sempre che le squadre che hanno voluto sin da subito che hanno adottato una posizione di voler riprendere da subito il campionato abbiamo sempre detto che questa è una scelta scellerata rispettiamo ovviamente chi vuole chi vorrebbe anche lo stop del campionato una società come il Brescia ad esempio è legittima una cosa una cosa del genere ovviamente però c'è da dire che il danno economico che viene arricato alle società è veramente veramente molto molto grande di questo andiamo a parlare subito perché la Roma ieri sera ha preso una decisione molto importante e ci lascia molto fieri di questa squadra che non è soltanto una squadra appunto i giocatori in accordo con la società hanno deciso di tagliarsi lo stipendio per le prossime quattro mensilità in caso di stop e in caso di ripresa i giocatori rinuncerebbero a due mesi e mezzo di mensilità che poi ovviamente verrebbero spalmate nella stagione successiva i giocatori quindi lasciano sul piatto diversi diversi soldi risparmiando circa facendo risparmiare quindi alla Roma circa 50 milioni di euro una scelta molto importante perché grazie a questa scelta verranno aiutati molti dipendenti della Roma che erano stati messi in in cassa integrazione per cui dopo la Juventus la Roma prende questa decisione molto importante la Roma che aveva aspettato un possibile accordo tra Lega e Associazione Italiana Calciatori accordo che non è arrivato per cui la società ha deciso di muoversi da sola e direi che questa decisione ci riempie d'orgoglio è una decisione importante soprattutto perché permette alla società di aiutare economicamente parlando moltissimi dipendenti per cui siamo veramente orgogliosi ricordiamo inoltre le tantissime iniziative che la Roma ha portato avanti in questi giorni dalla raccolta per lo Spallanzani dove sono stati raccolti più di 250 mila euro in più le magliette messe all'asta ovviamente tutto è ricavato è andato alla lotta contro il coronavirus Roma Kers che ha portato beni di prima necessità agli abbonati over 75 il call center messo a disposizione dalla società insomma sono tantissime le iniziative da parte della S Roma aiutata anche da molti suoi tifosi a cui vanno fatti i complimenti ovviamente per l'aiuto che è stato dato alla società nella raccolta di beni di prima necessità per le persone più bisognose abbiamo detto appunto che il campionato potrebbe riprendere a fine maggio il 4 maggio bisognerebbe teoricamente i giocatori riprenderanno ad allenarsi se non dovesse cambiare nulla ovviamente perché per il momento è tutto provvisorio è molto alta la possibilità che si riprenda appunto a fine maggio inizio giugno abbiamo detto che se i giocatori dovessero cominciare dovessero ricominciare ad allenarsi il 4 di maggio servirebbero 3 settimane per riprendere la forma e il ritmo partito ovviamente è stata convocata un'assemblea speciale con i vertici del calcio per ora però non c'è una decisione definitiva si attende anche il lascia passare della FIFA perché bisognerebbe rivedere anche la questione dei contratti insomma è molto molto difficile e qualsiasi decisione verrà presa dovrà l'importante è che vada a tutelare i giocatori e vada a tutelare la salute di tutte le persone che lavorano in ambito calcistico questa è la cosa più importante se si dovesse decidere di riprendere a giocare e se si dovesse decidere anche di stoppare il campionato ovviamente questa è una decisione che sarebbe legittima perché visto il momento non c'è la sicurezza di poter riprendere al momento per quanto riguarda sempre l'emergenza da coronavirus Bruno Conti sta aiutando Falcao nella raccolta fondi portata avanti dal campione brasiliano per le favelas per cui vanno fatti complimenti a Falcao, vanno fatti complimenti a Bruno Conti che sta aiutando appunto il suo ex compagno di squadra hanno vinto uno scudetto insieme insomma io quei tempi purtroppo non li ho visti ma credo che quella sia stata una Roma veramente veramente incredibile tornando al discorso degli allenamenti Tricoria è già stata sanificata c'è un piano ovviamente per rispettare tutte le regole anti contagio da coronavirus bisognerà allenarsi in gruppi nessun assembramento docce nelle camere singole ovviamente per poter evitare appunto il contatto tra i giocatori vietati i pranzi di squadra per cui bisognerà seguire un protocollo la Roma dovrà seguire un protocollo molto rigido anti coronavirus e non sarà facile sicuramente è una situazione che ha accolto alla sprovvista tutti quanti bisognerà farsi trovare preparati non sarà facile assolutamente la Roma sta lavorando molto bene ricordiamo che la società ha dato ai giocatori dei mezzi per potersi allenare da casa ovviamente non è come potersi allenare in quel di Tricoria però comunque per quel che si può la Roma sta continuando i giocatori stanno continuando ad allenarsi monitorati dal preparatore atletico Nuno Romano in continuo contatto con Fonseca per cui la Roma non si ferma sta continuando a lavorare e questa è la cosa più importante ricordiamo inoltre che la società sta facendo delle dirette Instagram con i giocatori ieri è stata la volta di Diego Perotti nei giorni scorsi ha parlato anche Davide Santone poi c'è stato Mancini, c'è stato Spinazzola insomma una bella iniziativa da parte della società andiamo ora a un'intervista che è stata fatta in questi minuti credo sia finita, non lo so sinceramente ovvero l'intervista molto bella di Alessandro Florenzi a Sky Sport 24 Florenzi ha parlato un po' di tutto delle differenze tra Italia e Spagna c'è un esempio che ha fatto con la differenza che c'è tra tra la visione del calcio in Spagna rispetto a quella che c'è in Italia cioè ad esempio quando è andato in trasferta a Getafe ha parcheggiato la macchina molto lontano dalla stazione ha fatto un pezzo a piedi cosa che a Roma sarebbe impensabile e Florenzi dice proprio non c'è quella passione che si vive a Roma e quindi si vive un po' più liberi poi c'è stato anche un messaggio di Garzia che lo ha lanciato come alla destra come esterno attacco in cui Florenzi ha fatto veramente benissimo Garzia che lo ha messo anche come terzino e tra l'altro questo è un argomento della duttilità dei ruoli che Florenzi può ricoprire che è stata toccata all'interno dell'intervista ha detto che lui si trova bene comunque nella posizione di terzino ma in generale lui si trova bene in calcio offensivo e si trova bene quando si trova in campo ha parlato dell'orgoglio che si prova ad essere il capitano della Roma ha parlato anche del rapporto con Fonseca essendo molto onesto entrambi sono stati molto onesti hanno parlato Fonseca non gli ha assicurato di poter giocare di poter fargli giocare tutte le partite per cui Florenzi in vista anche dell'europeo in vista anche di un rapporto che non era molto non era rosio ecco diciamo con l'ambiente c'erano un po' di problemi per cui la decisione migliore è stata quella di lasciarsi però Florenzi non esclude il ritorno ricordiamo che è in prestito secco al Valencia con cui ha detto di trovarsi comunque molto bene tornerà la speranza lui neanche lui lo sa sinceramente il cosa gli riserverà il futuro la mia speranza è quella che Alessandro possa rimanere perché un giocatore del genere attaccato alla maglia romano romanista difficilmente lo riavremo anzi giocatori del genere soprattutto dopo l'addio di Totti e di De Rossi è sempre meglio averli in quel di Tricoria secondo me poi Florenzi parliamoci chiaro è forte c'è poco da dire si possono dire tutte le cose che si vogliono ma un giocatore importante al di là del valore affettivo Florenzi ha parlato anche del del rapporto con la tifoseria non si spiega sinceramente perché una parte dell'ambiente lo abbia criticato però lui vorrà sempre bene i tifosi della Roma perché lui è romano e romanista appunto e i tifosi della Roma li porterà sempre nel suo cuore ovviamente nel suo piccolo c'è la speranza di tornare a Roma e di rimanere a Roma bisognerà vedere ancora è presto per parlarne c'è un messaggio anche di Zagnolo i due sono molto amici ricordiamo che Florenzi lo ha aiutato molto psicologicamente dopo che Zagnolo si è rotto il crociato è andato a casa sua anche insomma un bel rapporto quello tra Alessandro e Nicolò e Florenzi tra l'altro ha proprio specificato di averlo preso di esserselo preso sotto la sua alla protettiva perché un giocatore del genere giovane soprattutto con tutte le pressioni deve essere un attimino guidato e direi che Florenzi è un giocatore adatto per per fare ciò inoltre ha parlato anche delle offerte rifiutate ha rifiutato l'Inter per rimanere a Roma per cui insomma si può dire di tutto si può parlare di tattica di capacità tecniche di Alessandro Florenzi però non che che non abbia affetto per la Roma perché insomma rifiutare l'Inter un'offerta importante sapendo comunque di prendere di meno economicamente parlando a Roma non è da tutti infatti Florenzi dice ho scelto con il cuore e lo rifarei quindi la mia speranza è che Florenzi possa tornare e riprendersi la sua Roma inoltre per concludere ha detto anche che De Rossi secondo lui come allenatore diventerà fortissimo e ce l'auguriamo detto questo ragazzi io vi invito a seguire il nostro sito perché nonostante la quarantena rimane comunque sempre aggiornato c'è la storia dei presidenti della Roma dal 49 al 79 la storia di Rudy Feller le nostre rubriche ti racconto una storia 10 minuti con il legionario vi invito a seguirci sui nostri social su Twitter su Instagram su Facebook sulla nostra radio dove potete ascoltare tutti i nostri podcast e sul nostro canale YouTube mi raccomando iscrivetevi noi ci sentiamo settimana prossima state a casa un saluto a tutti e sempre sempre Forza Roma Grazie a tutti